Il Comune di Montesilvano rafforza il servizio di vigilanza territoriale con bici a pedalata assistita. Il contributo dell'amministrazione arriva a beneficio dell'Associazione Nazionale Carabinieri, che in questo modo si aggiunge all'attività di controllo di carabinieri e polizia locale. A seguito di un contributo che ci ha elargito il Comune per i vari servizi effettuati, in special modo durante la pandemia, al lab vaccinale ed altro, il Comune ci ha elargito una somma di 12.000 euro e con questa somma abbiamo acquistato del materiale come le due bici elettriche, un calzebo e materiale di vestiario per i volontari. Oltre a inaugurare il materiale elargito, siamo qui anche a inaugurare questo nuovo nucleo che andrà poi a svolgere un'attività sul territorio di Montesilvano, una presenza attiva rivolta alle persone più fragili, quindi anziani, disabili e minori. Inoltre, come stanno attuando in altre parti d'Italia, andremo a fare dei servizi appositi di osservazione e segnalazione, che si chiamano, nei vari luoghi pubblici, giardini e quant'altro, per segnalare alle autorità eventuali persone o cose per non commettere reati e segnalarle ai carabinieri o alla polizia locale eventuale situazione non in regola per poter poi loro fare l'intervento. Grazie. Grazie.